E' morto mentre tentava di sfuggire ad alcune volanti della polizia a perdere la vita a un motociclista di 33 anni. L'incidente è accaduto in corso orbassano a Torino. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, non si è fermata a un controllo ed è finita contro un'auto ferma a bordo strada. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. La moto era priva di assicurazione, forse questa la causa del tentativo di fuga finito in tragedia. All'alt delle forze dell'ordine, il motociclista, dopo aver fatto scendere il passeggero che aveva con sé, è partito a folle velocità in direzione Beinasco, inseguito da una volante. Poche le centinaia di metri percorse prima di perdere il controllo del mezzo e di andare a sbattere contro un'autovettura in sosta. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale, mentre il passeggero che era con lui è stato fermato dai poliziotti mentre tentava di fuggire a piedi. Dagli accertamenti successivi è emerso che entrambi hanno precedenti di polizia.